Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. È diviso al comunicato stampa che oggi presentiamo Clemi Scogna Miglio, fin dove si scorge il mare, più una coraggiosa casa editrice di cui ci parlerà Clemi tra qualche attimo, perché mi ha raccontato, non lo sapevo, mi ha raccontato nel momento introduttivo della nostra conoscenza, mi ha raccontato che è una casa editrice che fa un'operazione di comunità letteraria molto interessante. Il libro di Clemi, visto anche dal comunicato stampa che è stato pubblicato, soprattutto che trovate anche sul sito della nostra fondazione, è un libro che ho chiamato Romanzo di poesia, perché è un libro che unisce, racconta la narrazione, la storia, le storie, con la declinazione del linguaggio rapido, inatteso, spiazzante, come spesso e come normalmente il linguaggio poetico. Quindi un libro di grandissima fattura, per la verità ringrazio Michele che mi ha dato l'opportunità di leggerlo e di appassionarmi, quindi credo che anche dal comunicato si evita un po' questa particolare intensità emotiva che mi ha lasciato la lettura di questo libro. Ci sono delle parole chiave in questo libro, ci sono delle storie, innanzitutto delle storie di donne, di due donne, nel tempo, perché poi si proiettano nel tempo, al ritroso, in avanti, per poi ritornare indietro. Anche qui c'è una declinazione del tempo in maniera molto suggestiva. Due storie di donne che vivono un amore apparentemente possibile, ma in realtà un amore che finisce per diventare impossibile. Ha dei momenti di felicità, come tutti gli amori apparentemente impossibili, ma poi si contraddice e finisce per distruggere se stessa. Ma distruggere se stessa in maniera, per come ce lo racconta Clemmi, non è una distruzione negativa, è una distruzione positiva, è una distruzione rigenerante, perché nella collezione di eventi che Clemmi gli sottopone vi è una capacità di questi eventi poi di ritornare in un mosaico complessivo ad acquisire una dimensione, una natura di senso che altrimenti non avrebbero se fossero collocati singolarmente l'uno separatamente dagli altri. Ci sono delle parole importanti, perché come me insegna il diritto e l'interatura all'università, ci sono delle parole importanti per noi giuristici, c'è il rapporto per esempio con Clemmi, non so con quanta consapevolezza, perché non so, non credo che tu sia giurista, non è nessun rapporto con il diritto, però per esempio lei tratta un tema che noi, ci occupiamo molto, ci occupiamo molto, ci occupiamo molto il rapporto tra diritto e legge, la differenza che c'è tra diritto e legge, quanto poi questo diritto e questa legge risulta, quanto la legge tende a sconfiggere il diritto, il diritto inteso come portatore, formale o sostanziale secondo dei punti di vista della giustizia. Quindi in giustizia ce ne stanno parecchie per la verità, sono raccontate parecchie, mi dispiace che il mio amico Neon Borbonico non ci sia, questo è un libro datto alle sue corde, andrebbe benissimo, ci sono dei passaggi straordinari nel libro su questo tema, che raccontano appunto un lungo lasso di tempo, ma si concentrano intorno all'Italia postunitaria dove accadono delle cose, delle cose che sono delle cose molto dolorose, spesso molto dolorose, è un dolore che finisce come dice Plemmi, spesso per essere però anche una grande lezione di vita, spesso il dolore è l'unica della lezione di vita, per noi esseri umani che tendiamo molto a dimenticare. La memoria si concentra intorno a questo percorso unitario che caratterizza la vita dei protagonisti, che è un percorso unitario spesso traumatico e soprattutto un percorso unitario cadenzato dei vittimi del dolore. Un libro però assolutamente, l'ho scritto anche nel comunicato Stato, è stata la parola Letizia, un libro che non è mai triste, pur trattando di tutto altro che leggeri, un libro mai triste, un libro pieno di spunti, parole chiare oltre a quelle che ho detto ovviamente per me giuristi che sono appassionati di diritto di intergiustizia, legge di intergiustizia, ma io ancora vorrei essere progressivamente affermativi, ma anche delle cose particolarmente belle ci sono nel libro come la parola verità, un'altra parola a me particolarmente cara è la parola miracolo che è presente nel libro. Non voglio anticipare troppo perché poi devo fare delle domande, la domanda che mi riservo è quella sulla parola eternità, perché c'è una frase sull'eternità che mi ha colpito molto e poi vi dico che sta a pagina 139 e vorrei che lei mi raccontasse bene cosa è l'eternità per i protagonisti di questo libro, perché normalmente l'eternità la poniamo in positivo e in questo caso l'eternità non assume una connotazione positiva, quindi ci racconta Clare in cui è meglio, raccontiamo innanzitutto le esperienze editoriali, poi ci racconti un po' la storia da Immacolata a Filomena, a proposito di Amori Impossibili, i maschi sono un po' coprotagonisti, ci sono un po' coprotagonisti, ci sono ma non brillano per una caratterizzazione significativa, diciamo questo, gli interpreti principali sono le donne, poi ci sono gli Oscar che si danno a chi, gli interpreti secondari, gli attori non protagonisti, ecco ci sono attori non protagonisti, casomai è stato di straordinario talento come appunto alcuni dei maschi, infatti vado il papà di Pacolata, ecco vorrei, prima che cominciamo, vorrei leggere un pezzo del libro, così entriamo nel vivo delle cose poi diamo la parola a Clemmi, vorrei leggere il momento in cui, se lo trovo, dimentico l'inizio, sai invece come succede quando presenti un libro, vorrei sottolineare poche cose e soprattutto evidenziarmi poche cose, siccome insegni un sacco di cose, perché non trovi quello che cerchi, ma beh Clemmi facciamo così, comincia a parlare tu mentre ti parli, io cerco il brano che volevo leggere ai nostri... Benvenuto, buonasera a tutti, grazie per essere tu, per me si vera e quindi insomma questa possibilità di poter parlare, voglio dire, non soltanto di questo libro in particolare, ma anche come dicevamo prima, della mia case editrice, questa esperienza, voglio dire, editoriale che troviamo unica nel panorama, voglio dire, letterario attuale, anche perché è una case editrice classica, è stata fino all'anno scorso, poi dall'anno scorso ad oggi aggiunge alla case editrice, che si chiama Gli Sognatori, questa denominazione fa... Di Lecce, di Lecce, assi da Lecce, ma è semplicemente una sede, diciamo, il quartier generale, insomma voglio dire, ma in realtà noi siamo in tutta Italia, copriamo l'intero territorio nazionale e siamo adesso una sessantina degli scrittori e la particolarità è questa, perché praticamente ci autiamo l'un l'altro, nel senso che c'è questo mutuo soccorso tra l'uno e l'altro, non per quanto riguarda i libri, non per quanto riguarda la pubblicazione, perché è in senso classico, non è neppure la diviva, come è rivistica, perché in realtà voglio dire, insomma, lavoriamo ognuno per ciò che sa fare e ognuno per la propria esperienza e proprio il know-how viene portato in questo contesto e ad oggi per quanto riguarda Factory siamo su 18 libri, credo, pubblicati, non per quanto riguarda i sugnatori che ne aveva già altri precedenti. Abbiamo un progetto. Ma che cosa è Factory? E' questo per questo sistema di mutuo soccorso? E' questa industria, in realtà, che poi alla fine, di noi è la rotella, quindi alla fine dire se siamo un meccanismo che porta avanti questo discorso, ma più che altro che abbiamo un obiettivo, abbiamo una mission. E poi ci abbiamo anche un Zannita, è vero, perché un Zannita fa parte... Esattamente, abbiamo un collega che fa parte della Factory che è Giuseppe Guarino, di Cerrico Zannita, che è importante perché gioca in casa, è uno dei miei corregionali, in realtà. E poi fondamentalmente abbiamo questa cosa mission che era produrre libri di qualità. Speriamo, voglio dire, che adesso, insomma, per quanto riguarda le pubblicazioni, esclusi presenti, come si dice, in realtà, ho avuto un modo di leggere i libri, sono tutti curatissimi. E quindi, diciamo, questa mission per il momento avanti. Speriamo che questa idea crei comunque, voglio dire, delle... E poi questo sia il paese dove si comincia a leggere. Quindi... Poi, infatti, poi, felicitò che dice che ci dai le statistiche sulla lettura in Italia. È stata una più bella e più accogliente. Anche se il nostro editore, che tra l'altro è un giovanissimo... Che abbiamo invitato, io ho invitato poco anzi a venire qui da noi così può conoscere. Che ci farà molto piacere questa cosa, anche perché, voglio dire, l'idea è portare avanti questo progetto. Per noi era anche un punto d'orgoglio, perché in realtà è la casa elettrice sua, è la nostra. Quindi, voglio dire, è pur vero che tutto resta da un punto di vista economico, è comunque, voglio dire, legale suo, ma da un certo punto di vista siamo noi che stiamo contribuendo a lavorare per questa cosa. E un'altra cosa che dicevo prima, molto importante, cioè tra di noi esiste proprio questo soccorso che tra scrittori è molto difficile che si possa creare una tale sinergia tra le persone. Quindi, infatti, qui c'è la presenza, appunto, del mio collega, ha dovuto sostenere lui, credo, e io trovo una cosa voglia di dire magnifica, insomma, le due persone che più o meno fanno questa cosa. E raccontiamo invece adesso brevemente, poi io leggo che l'ho trovato, leggo il distacco tra Immacolata e il papà, Immacolata bambina, che poi Immacolata, tu la racconti anche ed adulta, che la lascia in un'azienda, chiamiamola così. No, diciamo che le condizioni dell'epoca per quanto riguarda la nostra industria, anche perché il romanzo è un romanzo storico, non è un saggio, quindi in realtà voglio dire, molte cose vengono utilizzate come fiction, non è un momento per spiegare quella che è la condizione storica del momento. Protagonista, per il proprio del romanzo, in realtà è lo smattimento identificativo del simbolo, della persona, rispetto a un momento importantissimo, qual è quella che è l'unità d'Italia, se vogliamo è un paradosso, perché nel momento in cui c'è un'unità, ci si chiede di perdere la propria. Quindi anche questo passo che andrei a leggere, in realtà a Fior di Melagora, è un pochino l'idea dell'abbandono, della protagonista, che deve abbandonare qualcosa che conosce, perché il padre lo abbandonerà, voglio dire, sacrificando se stessa, verso un futuro che non conosce. Chi parlerà a bambini? A dieci anni soltanto. A dieci anni soltanto, che oggi, noi pensandoci, a dieci anni il nostro figlio non manderemo neanche le giostre, ma già lasciarlo lì, insomma nelle condizioni, la forza e la capacità di resistenza a quello che era insita nei nostri avi, a me impressiona, voglio dire, è stata anche questa una delle molle, quindi mi butto a scrivere il libro, questa grande capacità di resistenza, questa sorta di diramo proprio, che si piega ma non si spezza. Non lo so, oggi io personalmente calato in una realtà del genere, quanto... Sì, anche io me lo sono chiesto, hai perfettamente ragione, me lo sono chiesto. Uno dei temi è proprio questo, io vi leggo il brano, si chiama Immacolata, disse, a quella era già distante, non l'ascoltava più. Solo allora il padre si abbassò per dare Immacolata un buffettino di dita rubide, seguì una raccomandazione per il piccolo pagotto che le consegnò, prendendolo dal sacchettino di pepe. La bambina, la bimba, lo guardava fisso, con gli stessi occhi carezievoli di chi si tenta a capire quello che accade, a che lo intuisce. Stringeva forte l'involto tra le braccia, così come avrebbe meritato di fare con una bambola, però troppo forte. Non te lo fai rubare per chi stai sotto occhio, ci sta qualche soldo dentro gli orecchini della tua mamma, non li ho mai venduti Immacolata, erano tuoi e non la volevo far dannare, perché io le volevo bene a tua mamma, lo sai? Io ne volevo tanto e assai, come a te, non te lo scordare, non te lo dimenticare mai, ne hai capito? Mai. Immacolata faceva ancora segno di sì e lui diceva, mi raccomando, ora fai la brava, cerca di crescere e di diventare ricca, come i napoletani, attento a scherzare, ma tra la barba restava quella strana smorfia che pariva ingarbugliargli la linea della bocca, lui la stringeva, ma quella insisteva a rendergli una riga strana, tutta storta. Ma papà, io che ci devo fare qui? chiese la ragazzina, voleva dirgli che dei napoletani non le importava niente, che le bastava essere ricca solo della sua mano, perché lei teneva la mano del padre poco prima. Invece era una bambina, non sapeva in che modo esprimere quel pensiero. «Devi stare con loro, con quelle signore, per poco però, il tempo per fare il vestire mi chiami, ti vengo a riprendere, immacolata, te lo giuro, te lo giuro». Immacolata lo guardava, non capiva perché la sua faccia riassumisse l'espressione della cinghia furibonda. L'uomo tossì e si votò di scatto, senza più una parola. «D'allora». L'ultima frase, te lo giuro, e poi fu strada in discesa, spietata con il colpo di tosse che lo giuro, sparì ingoiato dalla coltre della strada, oltre la polvere. «Papà», mormorò, non rispose, non la sentì, voleva rincorrere, chiede di come avrebbe fatto a ritrovarlo, ma qualcosa la tende inchiodata a quel muro, la fretta degli operali, le voci dei garzoni, il ragliare degli asini, quel vuoto silenzioso che le anneggia la vista, come uno strappo, qualcosa che, feroce, non le fece muore un passo. Il sorriso di suo padre, quello che impedì la paura di farsi terrore, le restò nel palmo per anni, proprio dove il calore della sua mano stava giato da nello. Allora lo chiuse forte, fortissimo, come dei glutendoli, il sole era salito in alto, spigolata di giallo, nuvole e polvere, il piazzale deserto indifeso, gli alberi assenti. Ecco, insomma c'è un applauso. La spessione piazzale deserto indifeso, appunto, gli alberi virgo, l'assedio, è una chiara tecnica poetica, cioè che ha molto a che fare con la narrazione della poesia. Salutiamo l'onorevole Abbate, benvenuto, cioè se ti vuoi accomodare, li diamo qui, dinanzi a noi, che ti dimentico, vieni di qua, perché sennò poi non mi riesci. Luigi ci fanno a studiare. Ditti tu qua Luigi, così va a cercare di dare più un canto a... No, no, io come siete, voi sai, non c'è nessuno. Luigi, si vieni qua, facciamo studiare lì. Ecco, facciamo. Ecco, quando vi parlavo prima della tecnica della poesia, questa è propriamente la tecnica della poesia che viene utilizzata a volte nella narrazione. e ne sono molte altre prove raccontiamo questo punto parliamo di Immacolata e parliamo di Filomena raccontiamo le protagoniste poi anche questi protagonisti di secondo livello che sono i maschi allora diciamo che possiamo partire raccontando forse per esempio la copertina la copertina giusto cosa ci offre? la missione di un paio di scarpe la copertina è questa è una farfalla che in realtà è un bambini fuori che è la farfalla del bambino della sede allora perché questa copertina? perché in realtà si parte da questa principale visione di una delle due protagoniste cioè Filomena che aspetta praticamente su una collina vede praticamente lo suo corteo di persone che accolgono il paese che altri non è che il figlio del barone del luogo e lo aspetta e poi ci riporta indietro e ci racconta praticamente che cosa ha fatto lei perché tutti quanti nel paese fanno qualcosa per questo per questo diciamo questo ritorno lei in realtà cosa offre? offre la possibilità di poter ricamare le tendine della carrozza e quindi nel ricamare queste tendine della carrozza diciamo a capire che lei precedentemente è la stessa che ha levato questi bacchi da selta è la stessa che riesce praticamente a creare della seta casalinga cosa che si faceva all'epoca in casa si utilizzava questa seta casalinga per parlare di lei chiaramente viene introdotta la madre la madre che a quel punto invece rifiuta quasi questa possibilità della figlia perché ha capito che tra la figlia e questo barone il barone del paese c'era evidentemente qualcosa di più che l'amicizia avuta quando erano bambini ovviamente la mamma tenta di proteggere la figlia perché sa che la figlia è malata ha una malattia cioè prima che povera insomma voglio dire che è una persona di classe sicuramente veramente e quindi sicuramente impossibile dire un amore impossibile ecco questo da poter minimamente ipotizzare cioè quindi l'incontro di questo figlio del barone con questa ragazza del popolo ma in realtà la ragazza non ha un futuro cioè il futuro della ragazza non esiste perché lei è malata di una malattia che non specifico la chiamano la morta secca la madre invece la figlia la chiamano la malata la malata la origine nazionale esatto in realtà voglio dire questa malattia la neve lieve come una farfalla può morire di qualsiasi cosa e dovrebbe morire il primo giorno che è nata cioè voglio dire perché questa ragazzina non era mai uscita cioè perdeva sangue ovunque anche per giocare voglio dire ma non aveva chiaramente salute allora cosa si faceva all'epoca una cosa orribile e crudele quello di seppellire i giovani vergine con gli abiti da sposa e quindi lei aveva questo abito da sposa ah scusa ancora adesso aveva questo abito da sposa comprato già da piccola e ogni anno glielo allungavano in realtà questo vestito cosa le mancavano le scarpe perché la ragazzina cresceva si potevano allungare gli abiti ma non si potevano certamente allungare le scarpe e quindi ogni volta lei comprava scarpe nuove che poi ridava al cazzolare del paese da pensare che oggi sono diversi negozi all'epoca c'era uno quindi voglio dire che le faceva queste scarpe la fine si era esasperato esatto perché non le poteva più ormai c'erano di tutti i tipi per tutti sapevano che queste scarpe erano di questa ragazzina per cui non le compravano e infatti diciamo lei continua a insistere pensando che le scarpe nel momento in cui arrivava il numero di scarpe ed erano quelle scarpe sarebbero arrivate a lei che a capo sarebbe arrivato la fine della sua vita facciamo spoiler sì poi alla fine chiaramente questo cosa ci fa vedere che c'è un'amicizia forte tra questa ragazza questo barone il fratello di questa ragazza più o meno che il fratello si chiama Martino Martino ed sono figli di Immacolata e giocano da piccoli insieme perché gli viene concesso di giocare da piccoli assieme l'unica vicinanza sociale è questa perché il bambino ricco in realtà vive nel castelletto dei padroni del luogo gli altri due in realtà sono liberissimi di vivere come vogliono però c'è un certo punto in cui questo ragazzo vive necessariamente come accadere all'epoca per studiare beh non è proprio questa motivazione ma non è che posso raccontare tutto il libro voglio dire quindi niente per cui deve andare via per studiare e si allontana da questi due fratelli e va a vivere a Roma dopodiché cosa accade? accade che incontriamo la figura di Immacolata perché a questo punto il libro si interrompe con la partenza voglio dire di questo ragazzo quindi si ricomince a parlare di Immacolata Immacolata e si ritorna indietro su questa sorta di flash all'indietro della storia della madre che Immacolata è una bambina che vive i primi anni dell'unità d'Italia che il papà che non ha un nome il padre il padre non ha un nome il padre non ha un nome e il papà praticamente l'accompagna in questo viaggio verso il sud della regione perché il padre ha perso la moglie un viaggio complicatissimo molto un viaggio tra le asperità proprio della regione perché in realtà di questa regione che poi tra l'altro è bellissima cioè quello che si riesce a vedere è solo un paesaggio basico cioè proprio un paesaggio essenziale dove non ci sono mari non ci sono delle non ne ho descritti non è utile descrivere proprio perché il viaggio secondo me è inteso in quella maniera cioè nel senso la difficoltà del momento oggi è semplice va bene sono venuta da Napoli ci ho messo due ore arrivare qua c'è un'ora e mezza quindi non è morto perché c'erano grafici mettiamo la tecchia perché magari andiamo anche di via con la macchina ma immaginiamo all'epoca queste persone che andavano a piedi a piedi si spostavano da una parte all'altra non soltanto nella regione ma addirittura diciamo di l'intera penizzola quindi a quel punto era una collina e questo viaggio in realtà è un viaggio iniziatico se lo vogliamo vedere da questo punto di vista ma in realtà era un viaggio di salvezza il viaggio di salvezza perché il padre cerca di salvarla da un diciamo da un momento di da una vita di schiavitù che sarebbe quella di darla praticamente come serva e siccome questa ragazzina le ricorda molto la moglie infatti lui è molto tenera in fronte della figlia perché è una ragazzina molto magra e quindi le ricorda tantissimo la moglie lui cerca di salvarla quindi di portarla lontano da questo destino però la porta in un posto facendo una scelta assai difficile perché la ragazzina dovrebbe diventare operaia di questa fabbrica della sita dunque oggi per noi dire un'operaia sarebbe semplicissimo e il problema è che all'epoca tutte le donne che avevano un proprio un proprio reddito non è che essere questa grande considerazione sociale perché è un po' se ci facciamo caso oggi parliamo di questa cosa che ancora accade in molte parti del mondo le donne hanno sempre questo ruolo che è doppio in maniera negativa o c'è barra sociale che in realtà ne sono chiuse questo per esempio accade nelle casse per esempio in India in questi paesi voglio dire dove le donne ecco anche quelle vedove non possono lavorare cioè non hanno la possibilità di poter sopravvivere ma le cose devono fare devono vivere di 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 se ci facciamo caso esisteva anche una certa realtà non molto lontana da noi però c'era solo che chiaramente non se ne parlava ecco per esempio l'idea che queste donne in lutto o anche sole smettessero il nero era assolutamente impensabile cioè non era possibile era comunque un simbolo e il papà lo sa che sta portando lei che sta portando questa ragazzina verso un futuro che è anche un futuro che di chiacchiera ecco di di magari che potesse avere lei sicuramente in un secondo momento una brutta reputazione ma a quel punto fai conti con con la sopravvivenza e infatti a un certo punto c'è questa frase che in sé riscopre anche un diciamo un bozzolo voglio dire non buono da comunque la possibilità di creare un fazzoletto di creare un cencio e quindi di avere la possibilità cioè non tutti voglio dire possono diventare possono ambire nella vita così pensa il padre ovviamente e la possibilità lui mette la figlia è una possibilità sicuramente di sopravvivenza allora non è negativo che lui la lasci là e se ne vada in realtà ha cercato di salvarla questo è fondamentalmente il rapporto del padre con Immacolata e Immacolata lo aspetterà per tutta la vita perché io credo che sia una cosa fondamentale in tutti anche in chi scrive insomma il rapporto con l'abbandono è molto forte cioè in noi è molto forte per cui chiaramente anche in me nel momento in cui io chiaramente scrivo questa questa insomma questa parte si affacciava praticamente questo dualismo che è ci nasce dentro riusciamo anche a stare soli ma non riusciamo a farci abbandonare cioè è qualcosa che forse ci ci sconvolge evidentemente e quindi per Immacolata il papà resterà per sempre è una figura che resterà in per tutta la sua vita come il padre di Martino per Martino per Martino quindi è la stessa cosa gli abbandoni gli abbandoni i volontari per questo dicevo che alla fine fondamentalmente non riusciamo ad accettare l'idea di essere abbandonati anche per una nobile causa anche per la migliore delle cause ma bisogna sempre avere una spiegazione a questa cosa che comunque non si accetta però poi Immacolata a stare in questo abbandono subisce anche un momento che tu racconti quando gli dici il resto con fondo di osculità che le tappo gli occhi e le assorbilare come un risucchio far depremere sul libido nero doloroso e poi soffocato come quando si piange forte le lacrime non escono per detiato e si annasca con le braccia pegate il movimento per ritrovare l'aria poi si cede per forza e si cede per forza e l'ultima parola di questa spazia di retorno mi viene accaduta una violenza una violenza una doppia violenza perché Immacolata abbiamo detto una bambina Immacolata non conosce alcuna realtà Immacolata arriva lì che ha dieci anni questa cosa accade e sono un po' più avanti nel tempo e si trattina di per sé per sé è praticamente una bambina e conosce il proprietario di questa di questa azienda di questa fabbrica e questo proprietario le inganna perché in realtà lei in questa fabbrica l'unica persona con la quale assume ha un rapporto di di umanità è un'amica che si chiama Teresa e questa amica in realtà è una ragazza molto particolare è la sorella di Giacinta una ragazza che è una brigatessa e che però in realtà tutto il paese insomma non vuole più avere a che fare con questa famiglia perché è una ragazza che ha determinato con questa sua scelta la volontà di voler fare quello cioè sconvolgente ma ancora più sconvolgente perché il papà il padre dice la difende quindi come tale ci rimette le gambe tornando al discorso Giacinta chiamerai ma con la le dirai che è un fiore d'aprile perché glielo dice la sorella glielo dice la sorella glielo dice Teresa glielo dice le aveva detto se tu c'è questa frase mi piace molto le aveva detto che i fiori d'aprile sono belli non le aveva spiegato che lo sono perché portano addosso tutte le promove dell'inverno fu così che il chino la testa sul braccio piegato e piazze dopo la violenza che aveva subito esatto ho assoluto questa violenza e tra l'altro questa violenza ha le sue conseguenze lei verrà cacciata dalla fabbrica però nel frattempo ha la fortuna di conoscere Giacomo una doppia violenza a me tutto bene anche perché il proprietario lei dice è una persona anziana quindi si fida di questo uomo consideriamo che lei ha dieci anni non ha il padre perché ne ha avuto un'educazione nella paternità ad essere figlia quindi si è fidata di questa persona perché l'ha visto anziano anche perché questa persona gli dice ma non si è andata a ballare lei ha vissuto una grossa febbre perché questa sua amica Teresa poi è morta quindi in circostanze assai misteriose quindi voglio dire per cui si sente solo abbandonata e si fida di questo uomo questo uomo invece in realtà altro non fa che trattarlo come? voglio dire all'epoca ma anche oggi voglio dire non proprio così ma comunque però il momento giusto è che lei incontra Giacomo in quel momento Giacomo nel quale lei non si fida di Giacomo infatti voglio dire non lo vuole lei vuole il suo padre lei vuole tornare il suo padre nonostante quali sono le sue condizioni e tutti le ridano in faccia perché veramente come fai a tornare incinta da tuo padre non hai cioè non è un marito sei vittima di una violenza Giacomo sembrava un uomo ma era solo un ragazzino poco più grande lei si incontrano un mattino presto davanti alle pire di legno che alimentavano i forni era una mattina invernale gelia dove la luce pareva solo un mano a fanno mescolato al cielo vedete la tecnica della poesia un mano a fanno mescolato al cielo frantumato di notte questo è proprio tecnica e tu racconti questa cosa che tu incontro con Giacomo davanti ai forni questo Giacomo tu racconti anche il positivo cioè non è padre come un ragazzo un ragazzo con grandi dodi grandi aspettative con grandi capacità con grandi volontà però questo ragazzo che cosa fa? cioè loro si sposano si sposano poi riparte di più Giacomo è consapevole del fatto che il figlio potrebbe non essere suo lui non lo sa se il figlio non è il suo questa cosa la trovo e l'accetta accetta paternità consapevole cioè lui accetta praticamente questa idea di poter avere questo figlio anche se non è suo figlio e di più in realtà lui quando sceglie di partire e sceglierà di partire per l'America non è una scelta di un disperato non è una scelta di un disperato perché ha quelle possibilità lui in realtà Giacomo rappresenta più l'idea del sogno e della possibilità quello che da un certo punto di vista a noi popolo del sud c'è negato cioè c'è stato negato noi facevamo solo gli immigrati ecco come si dice si mi hai voluto fare il bene in questo discorso dell'immigrazione lo racconti bene racconti bene anche di come vengono attratte queste persone come ricordano le storie di oggi delle immigrazioni di oggi le famose compagnie le famose compagnie del mare che in realtà avevano diciamo si comportavano più o meno come adesso succede con i scafissi esatto cioè qui andavano in queste campagne attraevano le persone voglio dire con quest'idea di questa America dove tutto era bellissimo dove tutto era possibile e poi portavano effettivamente i famosi corallini e quindi in realtà portavano le legume il cioccolato insomma cose che oggi chiaramente non ci farei cose e c'è ma l'epoca possiamo mangiare questa è una lissima novità c'è la sigaretta con il i quattro ragazzi che partono dal paese di Iacomo sono quattro persone che non tornano cioè uno solo torna ma è riuscito pazzo esatto esce pazzo non riesce a raccontare quello che è successo perché in realtà era talmente assurdo questo viaggio che lo stesso Iacomo si rende conto che lui non sarebbe comunque tornato infatti di là la lettera al figlio dove in realtà lui scrive questa lettera al suo figlio dove gli racconta la verità racconta la verità che il figlio non sa leggere no vorrei imparare a leggerlo dopo perché diciamo che tutto il desiderio del figlio è quello di poter leggere una lettera del padre leggerà quella definitiva esatto leggerà quella definitiva che chiaramente gli spiegherà un po' tutto e lo stesso figlio non si stupisce di questa cosa anzi ama ancora di più suo padre cioè a quel punto diventa un amore ancora più totalizzante nei confronti del padre e figlio perché se lo ha idealizzato principalmente alla fine per lui chiaramente diventa quella che è un'idea di paternità sicuramente che lo colpisce ancora di più cioè che lo il Giacomo è il frutto di questa sconfitta perché poi Giacomo è sconfitto dalla vicenda sua personale proprio quando parla l'automa del rapporto tra legge e diritto che fu quello che insegno tutta l'università diritto e letteratura ci occupiamo un tutto e se tu dici Giacomo scomplica il suo pezzo di terra quello per cui si è abbattuto tra il calore delle fornace e il rischio dei viaggi era stato rubato dai padroni dell'intero paese una legge che non ammetteva ignoranza ma che neppure spiegava né prima né dopo perché era così facile farsi portare via ogni diritto e qui sapeva che opporsi alla legge dello Stato non era da garantone poi lo Stato veniva dopo il potere dei baroni e lo salta da quelle parti questo poi apre ovviamente un altro tipo di ragionamento Giacomo se ne va lascia il padre vecchio che vorrebbe che non partisse il padre era molto legato al figlio lascia i due figli un figlio consapevole l'altro non lo sa perché la moglie è incinta ma lui non lo sa lui non lo sa che la moglie è incinta della malata e poi è la mortesima cento anni la malata è un paradosso masceo la malata che mi era a cento anni lei doveva morire era sempre in procinto di morire era sempre in procinto di morire e di aspettare dove si scappia voglio dire che poi si sa e dero giù esattamente e ci racconti di tutta questa vicenda dell'immigrazione poi peraltro l'anticipo perché voi racconti per esempio dell'immigrazione verso il settentrione verso la Francia la Germania il Belgio anticipando anche Marcinelli per certi aspetti di molti anni successivi a questo tuo racconto va via e lascia solo la colana una colana che ritorna a fare il tuo lavoro che era quello che faceva quando era ragazzina che era il lavoro di occuparsi di Bacchida Sita di Bacchida Sita che poi era diciamo questo lavoro che lei non avrebbe mai più ma mi racconti per la storia perché poi ci sta questa Bacchida Sita che si poggia sul corpo di è una storia un'invenzione particolare no ma è una realtà è una realtà voglio dire sì come dicevo prima anche in casa voglio dire esistevano delle piccole Finlande ma intese in senso voglio dire veramente molto molto allora siccome i Bacchi da Sita hanno bisogno di schiudersi di un particolare tipo di condizione di calore per cui questa condizione di calore praticamente veniva veniva ottenuta da queste donne mettendo in queste sacchette proprio queste sacchettine questi Bacchi e ponendole qua al petto in questo calore i Bacchi si chiedevano quindi davano la possibilità di poter di poter essere vivi insomma voglio dire quindi di non morire in grande quantità insomma di queste quindi di poter dare la possibilità di 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 creare questa Sita la cosa diciamo singolare che lo fa anche Filomena che in realtà è quasi morta ma con il suo diciamo questo suo calore riesce a far vivere anche in maniera voglio dire particolarmente infatti la Sita che nasce da questi che poi era Sita cioè Bacchi scartati che venivano lasciati dalla fabbrica non venivano utilizzati la mamma li raccoglie che porta la figlia per dare anche un senso di vita a questa ragazza la ragazza li pone in seno li fa rivivere e questi Pagli hanno una particolare producono una particolare Sita di particolare qualità luminosità e questo è anche un altro piccolo miracolo tra i miracoli di questa storia di Etan pur nella sua dolorosità anche perché poi c'è questa parte della fidanzata del figlio del barone che vuole questa Sita la vuole per il suo abito e la vuole a tutti i costi perché a un certo punto questa Sita comincia a diventare così diciamo famosa ma anche particolare come accadeva per certi filati voglio dire in determinate zone anche della campagna che per quanto la pezzatura fosse comunque oppure la quantità fosse comunque minore tanto minore la quantità maggiore era il valore per cui ognuno nel corredo voleva un pezzo di questo filato particolare questo è la futura fidanzata del suo diciamo la futura scusa la futura scusa di questo Francesco che sarebbe il figlio del barone ne voleva tanto per potersi costruire uno strasciolo intero per il suo abito da sposa però io ti ho interrotto prima non andiamo a finire delle scarpe cioè in cosa c'è questa come a finire questa storia delle scarpe da sposa le scarpe le verranno portate da Francesco le verranno portate da Francesco che torna da Roma che torna da Roma e porta queste scarpe poi ecco scatenando una furia di gelosia insomma nella sua fidanzata che non ha senso che gli porti queste scarpe e questa sua serva e tra Francesco e Filomena che accade? accade una cosa molto importante perché ormai Filomena è chiaramente quasi morta cioè vuol dire di che era morta ormai la ragazza non ha più segni di vita si vede che in realtà c'è un medico c'è il fratello c'è la madre anche la figura del medico è molto bella la sua caratteristica molto bene è una figura particolare anche in termini affettivi anche quella in natura non protagonista ma significa potrebbe anche lui prendere l'oscar sì ecco il medico non protagonista e che cosa accade? accade che praticamente il giorno in cui torna Francesco di Rosalca che è il figlio del barone noi vediamo come abbiamo raccontato prima vediamo Filomena su quest'altura che guarda questa scelta questo arrivo non si può regare ad accoglierlo come tutto il paese perché è malata sì perché è malata in realtà questa cosa non è reale è un sogno è quello che lei ha visto ha creduto di vedere quanto viene raccontato sia dal medico successivamente di quanto c'è scritto perché poi gli vengono portate queste scarpe a casa la madre le vede si rende conto che ormai la figlia sta per finire perché si sa è diventata una leggenda questa cosa il fratello si rende conto che la sorella ormai sta per finire in un gesto di ira la madre fa cadere questa scatola si apre la scatola e dentro la foto si trovano le lettere loro non sanno leggere quindi oggi parliamo di lettere in realtà per loro sembravano fosse le carte che servissero per avvolgere le scarpe chi gliele legge queste lettere gliele legge il dottore e gliele legge questo amore a un certo punto la salva perché cosa accade accade perché tutti questi anni che Francesco è stato a Roma in realtà lui ha continuato a scrivere lettere a questa ragazzina che lui offende prima di partire la chiama animale la chiama animale e lei dice perché non è andare a scuola e noi no perché voi non siete come me e lei risponde perché noi non le diamo e infatti allora lui se ritorniamo alle lettere si scoprono le lettere si scopre che questo ragazzo tutti gli anni che è stata a Roma ha coltivato questo amore e questo in qualche modo la risanna esatto la risanna è la forza voglio dire di questa sorta di canto di cegno a un certo punto questa forza di alzarsi dal letto e di avere principalmente delle prime pulsioni fame freddo sete cose che in realtà lei non 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 pulsioni alimentari quindi chiaramente questa cosa che lei non sentiva più che era fame quindi mangia velocemente cerca di una quale dunque voglio dire alla fine rivive torna alla vita questa questa grazia questo è un miracolo un miracolo che realmente voglio dire da un punto di vista sentimentale può accadere perché no cioè tornare alla vita perché no la vita è un miracolo voglio dire e poi ecco la vita urla e la morte è stazzita cioè voglio dire nel senso che in lei entra proprio come lì la forza vitale questa queste parole e quindi incontra così come ha scritto in un biglietto perché è molto importante anche la figura della zia della zia che comunque lei che scrive fa un biglietto voglio dire e incontra questo questo francesco si incontrano in questa piazza dove c'è questo questo monumento all'ignoto che in realtà cammina per tutto il libro quasi quasi insomma voglio dire una figura sì parallela a lei perché il bianco come lei insomma in realtà è una figura parallela che c'è non si capisce che cos'è non si capisce se è un santo non si capisce se è un eroe quindi alla fine nell'indifferenza ognuno gli tributa quello che vuole cioè corone dall'oro oppure che ne so candele è un monumento all'accredere alla propria stessa fede sì sì alla fede e quindi noi si incontreranno lì proprio al cospetto di questo monumento che tra l'altro li ha visti tempo prima darsi un bacio il primo e l'ultimo voglio dire della serie e si incontrano lì e li decidono di partire per Napoli di sposarsi però lui immediatamente dopo partirà per la regione salienza se ne partirà e quindi si allontanerà e non insomma non lo vedremo mai più però ricomincieremo a vedere Immacolata a quel punto Immacolata che torna di un parente in Germania che il filomena ormai è magrate vecchissima non riesce più neanche a connettere in realtà vive questa sua solitudine fatta scuffi insomma di piccola come un uccellino insomma è tornata una forza bambina come lego e invece le arrivano lasciano da un parente lontano in Germania lei non ha mai creduto che il papà potesse lasciarlo infatti quando il filomena gli dice è arrivata questa cosa e ci è arrivato questi soldi la mamma anche se immacolata anche se ormai non capisce più anche se non ha più connessione risponde lo sapevo che veniva me l'aveva detto lui sarebbe venuto poco prima che io mi mettessi paura quindi alla fine il papà torna cioè torna sotto forma di lascito in realtà di non tornare a me non torna fisicamente e allora io devo farti con la domanda che mi ha annunciato sì c'è di pagina 120 no ti faccio con un'altra tu guarda in un certo punto dici l'umanità si arroga sempre il diritto di assomigliere a Dio seppure Dio non assomigli mai a un assassino né a un solo profeta beh parole che mi hanno abbastanza d'accordo con i tempi che viviamo per la verità questa è la frase la colloghi in un contesto diverso la colloghi in un contesto in cui Emilio Filomena di un'altra cosa ce lo racconti questo anche questo ha un suo significato in realtà questa viene collocata nella storia che è la storia del dottore la storia del medico Emilio il suo dottore che si capirà è stato è stato diciamo l'amore della baronessa la grande amore la grande amore della baronessa c'è la mamma di Francesco infatti il padre di Francesco non è il baron ben sì e quindi alla fine Emilio però nel frattempo è dovuto scappare via perché chiaramente la baronessa non l'avrebbe mai lasciato voglio dire il marito lei nonostante tutto era comunque insomma consapevole del proprio ruolo e comunque voglio dire non l'avrebbe mai fatto poi aveva anche un debito di riconoscenza con i conti questo uomo tra l'altro anche abbastanza greve per cui voglio dire però ecco forse è una persona molto più fedele alle proprie scelte quindi lui va via e va chiaramente in questa zona insomma dell'Africa dove conosce quest'altra ragazza che comunque voglio dire viene uccisa perché ha frequentazioni con lui che le regala un crocifisso come vuoi dire come vuoi dire lui le regala un crocifisso lui le regala un crocifisso lei mi ha precisato allora a un certo punto è chiaro che ci si arroga il diritto di assomigliare a Dio e di essere Dio molte volte queste persone non hanno neanche la pezza alimentare cioè voglio dire nel senso non è che bisogna avere una pieni persone che hanno un'istruzione alta però essere Dio voglio dire e non averne la ben che minima capacità perché togliere la vita in realtà a quel punto è come essere Dio è come essere Dio il problema è di sentirsi a un certo punto Dio quindi anche l'idea la religione di non si assomiglia cioè lui non potrebbe assomigliare a un solo profetto e poi comunque nella guerra nella realtà delle cose Dio è assente Dio non c'è lo diceva solo che per esempio Dio non è nell'oruro noi non possiamo cercare Dio nelle cose orribili guarda io su questa cosa che tu dici la presentazione che faremo in prefettura per venerdì racconta appunto la storia di Giorgio Sacedo e della sua famiglia e di una buona parte della famiglia tutta la moglie fu uccisa ad Auschwitz e devo dire lì si parla molto di questo tema delle lettere per esempio che lui porta delle lettere familiari in cui si parla molto di Dio lui commenta sempre ma non è solo lui a commentare ovviamente ci sono illustri filosofi che hanno fatto analisi di questo tipo dove era Dio però effettivamente il tema della divinità che finisce ad essere poi un conforto perché le persone si sentono in una condizione di disperazione assoluta in quel libro che è raccontato molto bene il tema della disperazione è una cosa un'altra cosa è quello che dici tu che sicuramente a volte noi ce la vogliamo il diritto di interpretare la volontà divina di chi non conosciamo assolutamente nulla né perché ci abbiamo parlato né perché ci si è stato affidato un compito specifico mi piace il fatto che tu lo estendi ad ogni profeta questo tipo di possibilità di declinazione di una forza evocativa della divinità del divino che sicuramente non appartiene ad uno solo a prescindere dalle convinzioni religiose non puoi sottrarre ad altri quel diritto alla vita che tu giustamente dichiare di essere un diritto che solo Dio si può prendere per chi crede ovviamente si può prendere la facoltà di togliere però la mia domanda poi invece vi leggo il pezzettino prima dei libri sul tema dell'eternità normalmente l'eternità mi è ritenuta come un elemento positivo dell'esistenza ma tu qua dici solo quello che non si fa per paura resta eterno ecco questa è una frase che mi ha colpito molto ripeto perché noi attribuiamo all'eternità una valenza quasi una promessa una promessa infinita anche le persone che perdiamo pensiamo che quelle persone ci restano vicine noi siamo vicini al nostro contingente restiamo vicini a quelle persone attraverso una promessa eterna però tu qui parli di un tema dell'eternità collegandolo a quello della paura e mi piacerebbe che ci lo raccontassi allora posso che non fare qualcosa di maniere per l'eternità con il tema dell'impianto cioè quello che non si fa per paura quello che non si esce a scegliere per proprio per per mancanza di coraggio quello resta effettivamente eterno cioè rimaniamo prigionieri delle nostre sì perché diciamo la realtà è questo anche la storia degli uomini in generale non è costa insinfici anche la storia si applica vita morte proprio dire esistenza e morte ma è cosa che ha maglie larghe di queste maglie larghe e maglie strette scusami che ha maglie strette di queste maglie strette passa il tempo ma resta attraverso questo resta ciò che un uomo è stato ciò che un uomo ha fatto ciò che un uomo ha compiuto un uomo felice è un uomo che conclude il suo arco in Italia cioè che conclude totalmente la sua vita quando non ha problemi di eternità perché da questo punto di vista lo considero un problema cioè ciò che è stato negativo nella vita lo diventerà per sempre anche nel ricordo ma penso anch'io mi metto insieme va bene termino con le ultime per le domande di rizzo l'aveva trovata ancora lì al suo ritorno come le aveva detto non si era mossa il capo posato sul petto gli occhi chiusi pareva assopita era tardi la sollecitò Filomena non si svegliò neppure quando la ragazza diceva un po' in qualcosa si fermò un paio di scarpe le raccolse il raso era ingiandito dalla polvere dei dettagli di una vecchia scatola il sole poi sullo smorficio e la seta si liberò come bulliscolo di legno e immensità dell'aria e le storie incontrate poi sono così una manciata di polvere afferrata per caso caduta dal vento che risale in alto fino a che si scorge il mare di tutto grazie 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 ci vediamo mercoledì prossimo per chi viene venerdì e sabato qui in Fondazione Sabato il gioco venerdì alla prefettura ci vediamo la prefettura qui con Nazionale grazie 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 per avermi tutto grazie di questa pregno ospite grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi